La Rino trasformata in un set cinematografico, a partire da domenica fino a giovedì il centro storico della città frentana ospiterà attori e macchine da ripresa, visto che è stato scelto come luogo in cui girare le scene della Passione di Cristo, in un film che sarà una rivisitazione moderna della vita di Gesù, con attori come Luca Lionello, figlio di Oreste e Nino Frassica, diretti da Paolo Consorti. Il film si chiamerà Il sole dei cattivi e il regista ha scelto la Rino dopo un sopralluogo effettuato grazie a un contatto con l'associazione CAR, che sta realizzando i vestiti che verranno indossati da 70 figuranti. Le riprese inizieranno domenica dalle 16 e per tutti i giorni, fino al 21, l'amministrazione invita i cittadini a partecipare, in quanto verranno girate scene in cui ci sarà bisogno di molto pubblico. Il film verrà realizzato tra Piazza Duomo, Via Elena, Palazzo Ducale, Via San Benedetto e Via De Gasperi. A fare da supporto allo staff del film ci sarà l'associazione CAR, che in passato ha già organizzato numerose manifestazioni, tra cui anche La Passione di Cristo. I 70 vestiti che stanno realizzando verranno utilizzati dai membri della stessa associazione e da altri che provengono dalla Proloco di Montenero di Bisaccia. Il film sarà utile per valorizzare il patrimonio artistico e culturale di Larino, ha commentato l'assessore alla cultura Massimo Starita, che ha già annunciato la chiusura di alcune strade per permetterle allestimento del set e le riprese del film. Annunciata anche la presenza di un terzo attore famoso, ma il regista ha voluto mantenere il riservo. Il suo nome si conoscerà solo domenica.